Il rifacimento della pavimentazione della riva lungo la laguna dell'Usenzo rientra nel piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024. Si tratta di un lavoro che da anni viene richiesto dai residenti di riva l'Usenzo, soprattutto sulla zona che va dal traghetto al Mosella. La pavimentazione sconnessa, rattoppata anche malamente, non solo ticchetta al passaggio di ogni mezzo, ma è causa anche di danneggiamenti alle vetture e pericolo per le persone, in quanto, e sono fatti di cui già si racconta, pezzi di quadri al passaggio insistente delle auto si staccano, rischiando di essere lanciati all'aria e di cogliere in pieno qualcuno. Ci si era illusi che i lavori dovessero partire al termine dell'estate scorsa, ma la faccenda si spera che ora sia imminente. Prevede una spesa di circa un milione e mezzo e si presume verrà realizzata a stralci per causare il minor disagio possibile. I residenti spererebbero di vedere risolto il problema a breve e forse quest'anno riusciremo a vedere l'inizio dei lavori. Grazie a tutti!